Musica Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri oggi sabato 24 marzo poco prima delle 14.30 in via Bligny 6 a Torino. Un ascensore con all'interno un giovane apparaio di una ditta di trasloco e conduzione familiare che stava effettuando il trasloco di un cliente è precipitato di due piani, dal quarto al secondo. Aperto il vano l'uomo è stato subito soccorso, fortunatamente cosciente ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato all'ospedale CTO, trattandosi di un incidente sul lavoro sul posto intervenuto all'ospresal. Grazie per la visione!